Ciao! Allora, oggi voliamo a Dreamtopia, esattamente nel regno delle pietre preziose, con questa bellissima Barbie. Allora, vediamola nei dettagli. Qui abbiamo appunto il logo Barbie Dreamtopia, è il regno appunto queste pietre preziose, perché siamo nel regno delle pietre preziose ed è consegnata dai tre anni in su. Una scatola è molto semplice, sempre il nostro blister con tante nuvolette stampate sopra e dietro appunto c'è il castello del regno delle pietre preziose e appunto vari scenari tratti dalla serie tv. Qui ai lati abbiamo appunto una scena della serie, in cui abbiamo Barbie, principessa del regno delle pietre preziose, con Chelsea e qui il bellissimo castello. Il logo Barbie Dreamtopia, il logo della Mattel e ovviamente tante avvertenze e inoltre qui ci dice che possiamo scaricare l'applicazione di Barbie Dreamtopia. Bene, penso che per la scatola non debba dire altro, andiamo ad inboxare a fra poco. Ecco qui la nostra bellissima Barbie principessa delle pietre preziose. Allora, abbiamo questa splendida coroncina a forma di cuore, molto bella. Poi il trucco di Barbie è composto da praticamente, ha un fard e ombretto color glicine, mentre ha del rossetto fucsia qui. Poi ha una collana con tutti i cuoricini e pietre preziose. Il corpetto invece è stampato, però la particolarità, come potete vedere, riflette anche la luce, è questa pietra a forma di cuore incastonata, che mi ha colpito maggiormente, molto bella e particolare. Infatti, con la luce, vedete, riflette come se fosse appunto una pietra preziosa. Per tutto il resto, il corpetto è adornato di tanti altri diamanti e glitter ed è tutto rosa. I capelli questa volta sono usciti perfetti, quindi morbidi e fluidi, mentre la gunna è in stoffa. La parte in sotto è tutta rosa, mentre la parte in organza è composta da tanti cuoricini a brillantini e pallini a pua, sempre brillantinosi, che danno un bellissimo effetto, come potete vedere, e si ripete anche un po' ai lati. Quindi questa parte è molto bella. E infine le scarpe sono dei tacchi, sempre con pietre preziose incastonate. Molto bella. È una Barbie davvero molto carina e particolare, quindi mi piace un sacco. E fa parte appunto di Barbie Dreamtopia, regno delle pietre preziose. Bene amici, noi vi salutiamo e volevo ringraziare le tante persone che si sono iscritte questa settimana al canale. Grazie, grazie di cuore. Poi volevo darvi appuntamento al prossimo video che sarà sicuramente a Natale. Vedremo un po' cosa ci porterà Babbo Natale, se passerà. Io sono stato bravo. Vediamo un po' se lui, tra virgolette, verrà a casa. Io gli chiedo ovviamente tante Barbie. Ti chiedo, mio caro Babbo Natale. Ovviamente quelle che non ho, quindi tu visto che sai tutto sai già quali non ho. Bene, quindi io vi salutiamo, vi auguriamo una felice settimana che ci porterà direttamente al nostro magico Natale. Ciao! Ciao!